Avete appena visto il video separazione del SES-18 e del SES-19. Sto semplicemente analizzando alcuni dettagli, come ho sempre fatto nelle perizie delle piscine per ingegneri e tecnici quando c'erano delle controversie. Ho semplicemente ruotato il video di 90 gradi. La prima analisi mi porta a chiedere che cosa fuoriesce dal basso verso l'alto nel momento della separazione da un punto che non dovrebbe avere alcun componente che si muove per staccarsi. Rivediamolo al rallentatore. Queste, se fossimo dentro l'acqua, sarebbero bolle d'aria che si sono liberate esattamente nel momento della pressione di qualche fluido che ha fatto sganciare il presunto satellite, perché essendo più leggere corrono verso l'alto, a differenza di queste che potrebbero essere scorie metalliche che, essendo più pesanti, precipitano verso il basso dentro l'acqua. Qualche altra scoria si muove leggermente di traverso a causa del movimento dell'acqua creato dal leggero movimento del satellite che si sposta, ma la stragrande maggioranza precipita. Ma analizzate voi stessi il video e cercate altri particolari interessanti che vi ho indicato nel video precedente. Grazie per l'attenzione.